E adesso la parola sulle banche a lei. Sono senza parole Monica, perché Ivar Kostad poco fa ha sostenuto e difeso i programmi di bail-in in Europa. Dopo i bail-out che ci hanno riempito, specialmente i cittadini del sud dell'Europa, sulle loro spalle decine di miliardi di euro che pagheranno anche i nostri nipoti e i nostri figli, adesso la nuova logica è di andare anche a soluzioni che metteranno sulle nostre spalle il peso alle persone che hanno i loro conti delle banche. Penso che questa sia una logica distruttiva per l'Europa. E vorrei domandare se su questa logica è d'accordo anche il signor Juncker e il signor Schulz. La nostra opinione è che ci deve essere una possibilità complessiva di diminuire il debito che permetterà anche alle banche di poter andare avanti attraverso una diminuzione dei prestiti in rosso che hanno. E così sì, se no ci saranno debiti sui vecchi debiti.